Nata nel 2019, in seguito all'unione delle due reti di riserve, Sarca Basso Corso istituita nel 2012 e Sarca Alto Corso istituita nel 2013, la rete di riserve del Sarca ha cambiato denominazione diventando un parco fluviale, il parco fluviale della Sarca. L'ente capofila è il consorzio BIM Sarca Mincio Garda e il territorio comprende ben 27 aree protette fra siti Natura 2000 e riserve locali, con habitat molto differenti tra loro che formano un importante mosaico di biodiversità. Coordinatore del parco fluviale della Sarca è Stefano Zanoni, al quale chiediamo qual è il territorio coperto. Il parco fluviale della Sarca interessa tutto il territorio appunto che abbraccia il corso del CIM Sarca, in particolare un modo di ben 27 comuni, parte da Mandona di Campiglio, il ghiacciaio dell'Adamello e dell'Omiti di Brenta e appunto scende per la Varrendena, attraversa tutte le giudicarie, arrivando fino alla zona della Val dei Laghi e al Lago di Garda, dove appunto sfocia il principale emissario del Lago di Garda. Quindi sicuramente un territorio dall'Adamello al Garda che va a interessare una biodiversità molto importante perché appunto è legata a due climi che in pochissimi chilometri si tocca un clima mediterraneo sul Lago di Garda fino arrivando a un clima alpino con il CIM del Teladamello e del Brenta. Un territorio caratterizzato da numerosi habitat di notevole interesse. Ma quali sono le principali aree a valenza ambientale? Nel parco fluviale della Sarca abbiamo alcune aree importanti, Natura 2000, aree protette. Una è proprio quella che vedete alle mie spalle, la Torbira di Fiave, poi abbiamo altre importanti aree come le Morocco di Dro, il Monte Brione, il Lago di Toblino, nella zona più del Basso Sarca ma poi anche nell'Alto Sarca, appunto, oltre alla Torbira di Fiave, qua vicino c'è anche la Torbira della Valle Omasona e altre aree, c'è anche un bosco molto importante, frattione Villarendena, Verdesina che è appunto un castagneto molto particolare. La caratteristica è che appunto il parco fluviale estendendosi da una zona alpina fino a una zona del Lago di Garda ha diverse aree protette anche legate a diverse fasce climatiche. C'è inoltre una particolarità che rende unico il parco fluviale della Sarca. La presenza della riserva biosfera UNESCO. Sì, sicuramente diciamo che una parte del territorio del parco fluviale, in particolar modo le gilicari esteriori dove appunto ci troviamo oggi, hanno ottenuto nel 2015 questo importante riconoscimento internazionale dell'UNESCO che si chiama appunto riserva di biosfera e fa parte del programma uomo e biosfera. È una caratteristica importante perché va a sottolineare alcuni aspetti naturalistici ma allo stesso tempo il principale obiettivo della biosfera UNESCO è metterne in evidenza come l'uomo, cosa può fare l'uomo per continuare a vivere in equilibrio con il proprio ambiente e quindi per garantire uno sviluppo sostenibile nella quotidianità. Quindi sicuramente ci sono alcune tematiche importanti come per esempio la convivenza fra allevamento e aree protette, fra turismo e aree protette su cui la biosfera cerca di operare ovviamente in sinergia con quello che fanno le reti di riserve e il parco fluviale della Sarca stesso. È un'interessante sovrapposizione che poi fra l'altro si arricchisce anche di altri riconoscimenti UNESCO in questo territorio come le dolomite di Brenta, le parafitte di Siavee che sono tutti diversi riconoscimenti UNESCO che trovano una concentrazione in questo territorio a testimoniare anche la sua ricchezza naturalistica ma non solo. Vogliamo ricordare qualcuna fra le numerose iniziative che il parco fluviale della Sarca sta portando avanti? Come parco fluviale è già da alcuni anni che cerchiamo di fare rete anche con le altre aree protette del Trentino. Sicuramente qua nella nostra zona c'è la presenza del parco naturale da Mello Brenta con cui insieme stiamo facendo attività sia nelle scuole educative di educazione ambientale legate proprio al fiume, alle aree protette ma anche proprio azioni culturali. Una di queste che il parco fluviale della Sarca fa da diversi anni è anche il Maniflu che è un bando per le associazioni del territorio dove cerchiamo di attivare il territorio e le associazioni volontarie variato a ragionare sui temi ambientali con una ottima risposta da parte del territorio. Poi sicuramente abbiamo anche azioni più di conservazione nelle aree protette, alcuni sfalci per garantire la biodiversità nelle riserve naturali provinciali oppure anche dei miglioramenti. Abbiamo appena concluso da poco tempo la cartellonistica proprio in tutte le aree protette del parco fluviale affinché appunto si possa capire anche l'utente, il turista, il residente che va a fare una passeggiata in un'area protetta possa accogliere il valore di un'area protetta con delle spiegazioni per non tecnici ma comunque importanti che vanno a spiegare il valore appunto ambientale del territorio. Il fiume Sarca quindi è la spina dorsale di una rete di aree protette direttamente collegate al fiume dal punto di vista ecologico ma che non rientrano nei confini del vicino parco naturale Adamello Brenta. Una rete con l'obiettivo di valorizzare il turismo sostenibile, tutelare gli habitat e le specie botaniche e faunistiche appartenenti ai siti Natura 2000, mitigare gli impatti dell'industria idroelettrica sul fiume, migliorare la qualità delle acque e promuovere una cultura appunto dell'acqua attraverso il costante coinvolgimento delle comunità locali. Questo in sintesi il parco fluviale della Sarca.